Pronto? Pronto a buon tempi. Chi è la signora? No, sono Magnotta. Ah, senti, ma mi ha telefonato il direttore. Sì. Ma che è successo? No, non è successo niente. Oddio questa lavaccia. Ha telefonato dei paoli, tu sei un zozzo, sei un delinquente. Ma ma che me ne devo fare, santo Dio? Ma perché ti devo dare 6-800 valide e me ne porti in arra? Ma che te la portiamo? E' forte, ma chi te la paga? Ma non paghi? Non paghi, ma che io, senti. Ma l'arra la ci pagava allora? La so pagata sì. Ah, sicuro? Oh, freghi, perché io avevo l'arra di ho pagata 480 mila lire e io dovevo tirare di donna all'avvocato. E vediamo un po' come si mettono le cose. Ma abbiamo una soluzione. Ma che è soluzione? Quale è soluzione? Ma che vuole solo risolvere? Ah, no, ma boh, ma scusa, non te serve. Ma solo domani se sposa figlia tagliela da. Ma che me ne frega a me le mie figlie di domani? Ma perché mi voglio accoppiare questa lavaccia? Fravendani se sposa mia, vieni a me le frega, Fravendani. Io non ho capito perché voi mi volete accoppiare questa penetta lavatrice. Io questo ancora non riesco a capirlo. Ma che me ne vengono a fare? Il frigorifero c'è cielo. Ma perché mi volete accoppare la roba? Io questo non capisco. Perché mi volete accoppare la roba? La vorrei smettere per mettere la bomba, eh? Oh, non faccio delinquente. No, non faccio delinquente, ma io faccio... Tu hai risolto il plazzo? No, 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 no. No, no, no. Non ne voglio sapere. Scusa. No, no. La figlia del nostro... La figlia del nostro...